Oggi è un giorno importante perché da un punto di vista repressivo si è dato una svolta a una vicenda dolorosissima. Noi siamo qui oggi per un'affermazione di legalità. Nelle stesse ore degli arresti per lo Supro di Caivano, la polizia è tornata nel comune napoletano per dedicare tutta la giornata alla legalità. Oltre mille studenti, provenienti dalle scuole del paese e dei comuni vicini, entrano nel villaggio della legalità del Parco Verde per incontrare gli agenti e per conoscere le diverse specialità della polizia, da quella postale alla stradale, dalla ferroviaria alla scientifica. Ci sono gli atleti delle fiamme oro, gli artificieri, i cinofili e inibio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Molto soddisfatto Don Maurizio Patriciello, il prete antica morra che aveva invitato il Presidente del Consiglio al Parco Verde di Caivano, che Giorgia Meloni definì una zona franca dello Stato. In questo mese abbiamo visto qualcosa che secondo me non si è mai visto in Italia. Io il 25 di agosto ho scritto un messaggino, un whatsapp, pensate, al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E ho detto, guarda, vieni ad aiutarci, vieni a farci comprendere che anche noi siamo italiani e siamo europei. Nel giro di un mese lei è venuta con tre ministri, due sottosegretari, il capo della polizia, e ha fatto delle promesse e mi sembra che le stia mantenendo. Un'iniziativa, quella di oggi, per sensibilizzare i più giovani sui temi della legalità, per una maggiore consapevolezza sulle conseguenze delle azioni che vengono compiute sia nel mondo reale che in quello virtuale. Si continuerà in questo lavoro, si sta continuando per esempio per la ripresa del centro sportivo, ma anche mille altre attività.